Ciao, eccomi qui per un saluto, sono in auto, sto attraversando il deserto che mi porta verso Las Vegas perché è da lì che prenderò il volo del ritorno. Questa è stata veramente un'esperienza molto molto bella che mi è piaciuto molto condividere con te e con tutte le altre persone che mi hanno seguita, sono state veramente tante, questo mi ha riempito il cuore di gioia perché è stato un po' come viaggiare con te e con tutti quanti assieme per fare questa bella esperienza, una bella esperienza che ha portato più luce, spero anche nella tua vita e che ha aperto un po' il tuo cuore, la possibilità di cogliere di più di quello che la vita ti sta portando in realtà. Quindi io con questo messaggio voglio salutarti e ci sentiremo tra qualche giorno quando sarò a Torino e se avrai piacere continua a seguirmi, puoi inviarmi anche la tua mail perché da oggi ho iniziato nuovamente a inviare la mia mailing list e quindi ti lascio con un bel messaggio che sta arrivando proprio in questo momento inaspettato perché in realtà questo video lo sto girando semplicemente per salutarti e per avvisarti che mi sposterò dagli Stati Uniti. Quindi niente, rimani in ascolto e vediamo che cosa arriva perché non ne ho la più palida idea. Accogli con gioia la vita per come si manifesta con tutte le sue sfaccettature accogli con gioia tutto ciò che arriva nella tua vita come una bellissima sorpresa lascia andare il tentativo di controllare la vita perché non sarà mai possibile e questo porterà solo frustrazione nella tua esistenza apri il tuo cuore e lasciati portare dalla vita verso te stesso e verso il tuo cammino se tu ascolti noi siamo lì con te per aiutarti a vedere ciò che normalmente non vedi e ciò che nella tua vita è una benedizione e lo è già adesso e quindi accogli con gioia la vita per quello che è e apri il tuo cuore perché possa diventare ancora più bella e gioiosa un messaggio molto carino e divertente e gioioso bene con questo messaggio ti saluto e spero che possa portare sul tuo viso il sorriso che ha portato sul mio un abbraccio forte e a presto ciao